Siamo con l'assessore alle politiche sociali Nero Savastano, questa mattina al comune di Salerno una bellissima iniziativa, bimbi donano i bimbi. Sì, un'iniziativa importante, dobbiamo ringraziare soprattutto la prima squadra cittadina di Palamano che ancora una volta dimostra la sua sensibilità. Ha voluto organizzare per sabato un incontro nella palestra di Torrione dove si allenano e fanno le loro attività, dove i bambini della leva giovanile vogliono donare, portare un gioco, un regalo, pensando soprattutto a un momento di solidità ai bambini che non possono in questo momento ricevere.